Per la prima volta è possibile, attraverso un corso di formazione sul processo di sterilizzazione, avere l'inquadramento giuridico del processo, avere le responsabilità degli operatori interessati, avere la spiegazione delle diverse sequenze di tutto ciò che è fondamentale per organizzare, gestire e conoscere un processo di sterilizzazione. Il corso di sterilizzazione Clear Your Mind di Oronda ripeto sia interessante perché è interdisciplinare, cioè consente di avere la visione normativa del processo di sterilizzazione accoppiata alla visione pratica. Quindi si capisce perché le leggi funzionano in un certo modo e perché le devo applicare e si capisce come in realtà un processo, come quello della sterilizzazione, che è un processo estremamente importante all'interno dello studio donto iatrico, è in realtà rilevante giuridicamente. Questo secondo me è il motivo per cui il corso è efficace e valido. Grazie a tutti.